Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi mi metterò come metterla mano su mano Allora, prima di tutto dovete andare sul vostro materiale di ricerca Ok Aspettate che mi si apra Dovete cercare Forge Forge Cliccate sul primo link O cliccate su questi E cliccate su 1.12 perché gli altri li avete installati Ok, quando siete su questa schermata dovete cliccare installare Dovete incontrare questa schermata Aspettate 6 secondi 6 secondi tutti i miei schermi Cliccate skip Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale Cliccate Iscriviti al nostro canale La sua O recta Aggiungro Ocina Ocina Oh, discretion Cliccate Cliccate Oh, ammatt Cliccate 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 ma quanto c'è fuori ma quanto c'è fuori ma quanto c'è fuori e finalmente finita non trascinate nel backstop se ce l'avete voluto se l'avete voluto ma se lo potete voluto fattere un altro clic e mi devo imparare a questo schermo e anche questo qui ok e vi sistemare a tutto, mi sembra il salario di capo ora ho fatto che puro buttate via questo qua ma come si può guardare? vi ho guardato questo il palline e come da un morsico ok l'ultima mi piacera ecco va ecco ecco